ciao vera c'è un piccolo problema dovresti venire al garden vedete darmi una mano chiara mi sa che mi è un po esagerato dai non è così bello sì ho capito bello bello ma come facciamo a portarla in concessionaria devi provare a sentire massimo si adesso lo sento vediamo se ci può dar la mano massimo sì allora siamo qua al garden sì hai già capito massimo ehi ciao ciao cosa stai facendo non penserei mica di trascinarlo non posso caricare un eco 4 come facciamo vabbè dai chiamo valentina sicuramente avrà una soluzione sembra gli amici ciao vale ascolta abbiamo bisogno di te eccoci qua ciao ragazzi meraviglia ma è bellissimo ragazzi sì è bellissimo mamma mia beh già capito aiutatemi va ma è bellissimo no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.